salve a tutti benvenuti in un puntante questa serie su fifa 23 con il nostro palermo ok allora siamo in fase di calcio mercato, vi direi però giochiamo una partita, dobbiamo giocare una partita, giochiamo una partita ma con un esperimento, con un esperimento che voglio provare a fare adesso adesso non ho perché linea batte ma vabbè allora io voglio provare a fare un esperimento ok allora desmet faccio diventare antico cooper ovviamente no metto daud daud che mi diventa cc provando capito capito provando delle sperimentazioni artistiche, allora poi cooper per Yeboah, no è cooper, come fai? Allora cooper, allora io cooper Yeboah io voto due punti e non posso portarmi tutte e due e non posso, camp, devo portarmi camp, Yeboah si fa un po' di panchino però oggi si fa un po' di panchina però voglio provare con desmet attacco metto a t insomma voglio provarlo voglio provare vediamo un po' fanno ste cose un po' un po' sburgi che un po' un attimo un po' così però voglio provare vediamo un po' vediamo un po' come vanno contro l'Atalanta contro l'Atalanta vediamo come vanno queste cose speriamo bene penso malissimo tutto questo abbiamo bisogno di punti abbiamo bisogno di un difensore centrale abbiamo bisogno di tante cose abbiamo abbiamo bisogno d'amore sai zio comunque a parte di cavolata ci dobbiamo prendere un difensore centrale e adesso vediamo un po' quello che si riesce a fare cosa 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 si riesce a fare io non lo so cosa però tanto abbiamo ammazzato uno c'è lasciato l'asce di sangue a terra mi seria va bene va bene va bene che non ne vedo che va bene va malissimo ma tutto tanto male ma tutto tanto male abbiamo tanta difficoltà tanta difficoltà tanta difficoltà vabbè comunque vediamo quello che riusciamo a fare eh sì ciao domani mattina ci arriveremo domani mattina vediamo quello che si riesce a fare dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi calma ma mi vuole ver se la classifica davanti la faccia c'è la classifica e mi copre tutta la visuale ma perché ma perché dico io perché perché allora amate e beh faglielo diamo sto giallo per favore no no quelle a te perché era a terra daud 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 perché eri disteso a terra intanto smette 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 stava facendo stava facendo la cosa bella tiro angolo rigore va bene va bene va bene ed emiral potrebbe essere un a presa col ginocchio questo non è mai rigore nella vita però va bene che rega e ale 1 a 0 dai 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 va bene o queste le altre partite ben iniziate pure tutte benissimo 1 a 0 iniziamo bene e poi 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 finisce in tragedia e attenzione che vedo dello show in soccer però vedo dello show in soccer vedo dello show in soccer ad altissimi livelli se l'è stoppato col braccio l'ho visto l'ho visto se l'è palleggiato tra le mani sei proprio sarei proprio palleggiato a modi da modi di giocatore di palla a mano e non si va bene a certo punto è ok mario lui perché c'è mario lui ma va bene e infatti non va bene per un corno va bene come prima non riesce a fare dai ragazzi che portonelli dai ragazzi dai ragazzi ok di qua lancio smet 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 orca misere va bene va bene ha tirato il sinistro va bene dai 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 questa..... dai primo palo in mezzo che lì di niente rigore perchè perchè sto rigore scusate perchè sto rigore ok sta bene vai vega dai 2 a 0 vega sta facendo un sacco di col suo rigore grande vega grande vega grande vega grande vega bene così bene così adesso adesso però dobbiamo dobbiamo stare tranquilli perchè adesso secondo me lo Shaolin Soccer si intensificherà lo Shaolin Soccer si intensificherà cominceranno ad arrivare le onde energetiche da parte dei giocatori dell'Atalanta ci saranno cominciano ad esserci cose fuori giochi non fischiati tipo questo per dire cominciano ad esserci robe di stare tipo teletrasporti di giocatori dell'Atalanta non lo so comunque intanto dobbiamo stare tranquilli darci da fare colombo 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 grande tenente grande tenente di qua di qua bella Desmet che Desmet 3 a 0 dai che è morto si è incastrato lì va bene primo gol di Desmet primo gol di Desmet primo gol di Desmet grande Desmet grande Desmet di sponda fatto di sponda col palo praticamente vabbè comunque va bene primo gol di Desmet nel nostro Palermo bene così adesso oh siamo 3 a 0 direi possiamo tanto perché gli è legato sta punizione comunque dicevo possiamo cercare di di non perdere questi questi punti perché insomma sul 3 a 0 sarebbe sarebbe triste anche che cosa ah e meno male ci mancava solo che ce lo fischiavi contro allora dai vediamo quello che si riesce a fare Desmet niente dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi un turn e si un turn però tu teoricamente avresti scatto abbastanza elevato a meno che quello non è carly uis cioè c'hanno carly uis come terzino sinistro allora vabbè posso anche capirlo cioè calma bravissimo no bravo colombo bravo colombo bravo colombo bravo colombo bravo colombo bello colombo bello colombo che cos'è perché ma sei gratinato addosso ma che ma che st manda via colombo 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 le braccine allungale colombo colombo le braccine colombo colombo sì però vogliamo finire di inventarci queste punizioni è già la seconda eh che ce la facciamo evitare di inventarci queste punizioni eh di qua tra ore per daud 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 4 a 0 ok niente annientata l'Atalanta noi così questo è che è il nostro campionato prendiamo schiaffi a destra manca in maniera inenarrabile perdiamo col cagliari 3 a 2 pareggiamo 4 a 4 col Parma poi giochiamo contro l'Atalanta giochiamo contro l'Atalanta in casa e gliene facciamo 4 al primo tempo e va bene e va bene così e va bene così senza parole allora direi ma portami portami via portami via allora di qua chiellini anche tu ci metti che dì eh vai comunque niente ci proviamo hanno provato hanno provato a ammazzarmi di smette ma è tutto regolare tutto regolare qua ora mi sa che ci sarà un secondo tempo nel quale allora per fischiargli un fallo dovranno dovranno affrontarci con le armi da fuoco probabilmente tipo con armi armi da fuoco pesanti allora forse forse gli fischieranno un fallo forse ma dico ma dico forse comunque intanto vediamo cosa ti riesce a fare vincono anche i rimpalli ah grazie ogni tanto fischiano un fallo anche per noi benissimo ok ora signori 4-0 ce la possiamo fare a a possiamo fare ce la possiamo fare a portarci a casa questa partita dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi ok calma no no ma perché che fischi che ho preso il pallone ho preso il pallone cosa fischi che schetti fischi ho preso la palla che ti fischi oh che miseria l'aveva intuita colombo l'aveva intuita colombo l'aveva intuita l'aveva intuita va bene va bene fa niente siamo calmi non è successo niente fa niente e no sta giusto ok fa niente ce la possiamo fare dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi bravissimo abate grande abate allora di qua di qua se la fa perfetto mario rui di qua e daud niente daud daud è diventato è diventato non so che cosa daud io direi che forse è possibile che noi abbiamo trovato un po' la quadra in equilibrio di questa squadra forse ce l'abbiamo fatta forse abbiamo trovato la quadra una quadra un po' assurda un po' forte un po' assurda un po' bu però forse l'abbiamo trovato di qua con la daud bella tesmet e ale 6 a 1 6 a 1 vabbè io direi possiamo fare un po' di turnover allora allan ci metto fomba io a sto punto fare l'unto l'unto per chiellini dai direi che fa direi richter a posto di vega direi pardo direi cristea ma cristea lo faccio no faccio avanzare un po' di più lo faccio in taci oggi e poi poi come morire alla cooper no non lascio per dove potrei 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 che potrei fare potrei fare allora io direi mi preservo paredes hai salito le sostituzioni hai ragione hai anche ragione va bene va bene così va bene così dopo il gol un po' di turnover facciamo giocare un po' di giovani 6 a 1 direi che direi che cosa fatta anche se sto vedendo sto vedendo un pochino di shawling soccer da parte dell'Atalanta e va bene ora lancia avrei potuto far uscire The Smet però voglio che continui a giocare ma allora ce l'avete con me ce l'avete con me ce l'avete con me sto The Smet un attimo che pia un attimo che pia forma un attimo che pia forma e consistenza secondo me sto The Smet diventa diventa interessantissimo sotto The Smet un attimo che pia che pia un po' di forma e consistenza diventa veramente interessante tanto hanno levato vabbè ora Fomba per Richter niente la palla che è successo vabbè comunque 76 possiamo farci dai dai si mette bene sulla linea del passaggio e recupera il pallone no guarda te quel meno male bravo Colombo bravo bravo Colombo bravo Colombo no 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 e vabbè Colombo 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 pochettino Colombo perché perché sì perché sì Colombo Colombo però anche gli altri vedo comunque dallo Shaolin Soccer piuttosto avanzato proprio tanto avanzato ok Desmet 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 7 a 2 Desmet Desmet Anfalanga Desmet comunque c'è sì io direi che proprio abbiamo mi sa che abbiamo trovato in qualche modo una quadra sapete abbiamo trovato in qualche modo una quadra la mania è un po' assurda e paradossale ma abbiamo trovato una quadra so cosa di mettere Desmet l'anno avanti come centroavanti ma come AT e non come ATT no ah secondo me ha tipo confuso il gioco cioè che cosa sta succedendo e di Desmet vabbè abbiamo abbiamo liberato il potenziale di Desmet l'abbiamo niente l'abbiamo abbiamo scatenato i poteri i poteri cosmici di Desmet niente ok va bene 8 a 2 va bene certo l'Atalanta non ci sta capello più niente siamo siamo al limite ok è cominciato anche il rodeo noto noto anche un po' di rodeo attenzione Fomba Fomba potevi tirare tipo quando ho premuto io che cosa è successo perché che cosa è successo si è portato quello con ok ci sono scusate Desmet Desmet sul pallone Desmet Minchios dove l'ha piazzata Desmet va bene va bene va bene Desmet va bene Desmet va bene Desmet va bene Desmet come si come si dice Bruxelles va pigiala va bene 9 a 2 va bene la partita è folle nostra squadra ancora di più e ok diciamo che cambiamenti questi cambiamenti hanno un attimo cambiato il tutto vittoria importantissima vittoria è veramente d'oro una vittoria d'oro Desmet è un top player beh direi assolutamente si chiede prete e arrivi chiede cosa è cambiato ci siamo preparati meglio ok non è equilibrato non c'è stata partita siamo stati proprio una roba grazie ok benissimo e qua allora vediamo che sto c'è la Svezia ci vuole come l'organo nazionale ma direi anche no allora andiamo qua Ashraf Amdam Ashraf serviamo meglio Akhil Alcatani no Omar Soleimani no Al Shamrani no Ammar Ibrahim no Malik Saleh no Talal Al Shamari serviamo un po' meglio ah è terminata ok vabbè e che cosa dobbiamo fare allora Talal Al Shamari insomma non è che mi sembrano fenomeni tutte e due portiere questo qua Ashraf Amdan non lo so lui no Talal Al Shamari è un e 90 vabbè dai ce lo ingaggiamo va bene poi dall'Irlanda Shafirina ci porta Andrew Andrew Cannon non lo so Connor Mulan Connor Mulan no Damien Conway no McCloskey no Sheridan no Luke Trainor Luke Trainor ce la pensiamo meglio Joseph Finney no allora anche qua anche in questo caso è per terminata alla te no portieri basta Luke Trainor Luke Trainor eh Luke Trainor magari solo è solo piazzato nella posizione sbagliata allora poi dalla Danimarca faremo l'andici porta Nicolai Danielsen no Hans Nicholsen Hans Nicholsen ce la pensiamo un po' meglio Sam Christensen no Sorensen no Kent Oleten manco per manco Hans Nicholsen Hans Nicholsen non mi sembra sto gran fenomeno onestamente porta mia squadra primavera voglio vedere un attimo la situazione allora allora vediamo un po' equilibrio questo è appena arrivato Asciammari è un cdc è 1.90 vediamo un po' piano di crescita vediamo che cosa la difensiva 40 attività agilità allora io magari ma 10 settimane 10 settimane qualcosa che lo fa diventare 82 settimane no è proprio cdc è proprio cdc del del menga proprio è proprio cdc è proprio cdc 10 settimane e allora piano di crescita centrocampista recupera palloni recuperi palloni tu cresci recuperando palloni vabbè poi Luke Trainor è un parte da C.O.C. un C.O.C. ok che potrebbe avere cose vediamo un po' se magari a C.O.C. vediamo un po' C.O.C. quindi se magari magari lo faccio diventare un AD per dire no 47 5 5 settimane 81 12 64 tipo un AD no un AD alla destra no o un AD ma T47 se ne sono assai va bene e no sarai a C.O.C. sarai C.O.C. un C.O.C. falso 9 falso 9 e e va bene poi ah McHug ok piano di cresci io non ho dopo che McHug non ne ho più allora tu 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 hai bisogno di ala invertita mi fai l'ala invertita mi fai l'ala invertita benissimo ok poi poi allora vediamo un po' se c'è qualcuno e posso che ne so portare su qualcuno che non lo so non lo so vedo un attimo vedo delle situazioni un po' al limite del non so che cosa qua c'è una di al gambe di attaccante infaticabile tu che sei una T attaccante infaticabile ok ah qua c'è la situazione e trombola e trombola parecchio trombola parecchio c'è Stutoma che è 18 anni e lì è 59 e che cosa deve fare della sua vita non lo sa neanche lui tecchi io Toma colonna prima squadra ma per venderlo cominciamo Radu prima squadra per venderlo vediamo un po' poi vabbè qua ci abbiamo Ozerilmaz non lo so Ozerilmaz 81 questo piano di crescita comincio a pensare a lui come a un ruolo diverso infatti due settimane COC dai COC settimane il mazzo magari allora ok sto al zubaidi sto al zubaidi ti mi cresce ma insomma hai supporto avrei sto Toma avrei Toma avrei Toma direi vediamo un piano di crescita di Toma intanto ma se anche Toma anche Toma due settimane diventa COC anche Toma volendo proviamo proviamo a farlo diventa COC anche Toma andiamo un po' poi abbiamo Martino questo tipo muove per venderlo e basta e questi qua e Hans Mikkelsen e Hans Katateng Hans Hans Mikkelsen lo ingaggiamo e va bene ora andiamo ufficio a no allora la fogna mera deve andare allora è disponibile fai seguire ok allora l'altra volta erano quelle lì Irlanda allora io direi a questo punto uno tu vai in Italia tu ti fai tre mesi qua in Italia è ok Shavio Rejana Shavio Rejana Shavio Rejana ti fai tu dei mesi dei mesi in Romania Romania per per Shavio Rejana ed è it's Sari ed it's Sari a sto punto lo mando in Turchi dove la Turchia dove la Turchia ecco lo mando in Turchia giustamente ognuno ognuno diciamo nel proprio paese magari si trova meglio allora ora intanto vista queste cose è ok voglio vedere un attimo il vivaio e andiamo sto Michelsen SCOC SCOC vediamo ruoli vediamo allora può diventare AT può diventare AS e li faccio diventare AS in due settimane AS e vediamo che succede poi avanziamo ok interesse per di Sasi ok accordo per il prestito di accordo per il prestito due anni prestito secco al Galatasarai torna a casetta tua il Maz vai e divertiti ora gli Sasi persone in questa senza parole va bene ok ok mi vai scusare un attimo no no ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, non me lo ricordo più. Allora, ho fatto tutte le cose, ho risposto quello di rispondere, ok, andiamo, andiamo avanti, ok, ok, oh, attenzione, se il Tavigo vuole Yeboah in prestito, io direi, vista i cambiamenti recenti, Nicose, con Desmet, eccetera, ma Yeboah in prestito glielo posso anche dare, perché rischiava di giocare poco con noi. e quindi, intanto è prestito secco, vai, vai Yeboah, vai Yeboah, anzi, io devo vedere un attimo una cosa, Abbrosa, io devo vedere però una cosa, finanze, Yeboah, vabbè, che lì inizia per andarsene, va bene, ok, Radu, ok, lui va bene, ok, va bene, ok, va bene, Annotaib, è sempre in prestito, continua a crescere, Annotaib, vabbè, sarà un po' una nostra mascotte, il nostro attaccante con, vabbè, Yeboah, non, Yeboah, ha quattro anni, vabbè, ok, a posto, sì, posso dargli un prestito, ok, no, tememo che il tempo durante il prestito scadesse il contratto, che sarebbe un po' un problema, ora, avanziamo, accordo per il prestito di, ah, ok, accordo anche con Mehmet in Mads, ok, ok, anche accetta prestito, vabbè, caro Mehmet, ce l'hai tu se Anderlet, o Anderlet o Galata sarai, la ritirava per un fortuna per Boricristian, va benissimo, ora, andiamo avanti che c'è sconto diretto, intanto, il Mads sceglie il Galata sarai, il Mads sceglie di andare al Galata sarai, torna in Patria, per un paio di anni, vediamo se ne è fuori, ritirata l'offerta del Talore, ok, il Mads in prestito, va bene, ora, io continuo ad avanzare, arriviamo al Monza, ok, offerta ritirata, è rifiutata, beh, perché il Mads sceglie si è andato di là, ok, ok, ora, ora, io voglio capire al, osservatorio, dai a se, che cosa è che si, cosa sta bene, osservatorio, osservazione, gioc 3, asterisco 15, tx, che cacchio sta succedendo, fraction separator, che cacchio sta, vabbè, e ok, non mi chiedete, vabbè, lasciamo stare, allora, reazione osservatorio, vorrei vedere, divenzione centrale, io, Kossunu, rimangono 4 giorni per Kossunu, e per Malang Sar, secondo me, Kossunu è più forte, io lo dico secondo me, Kossunu, Kossunu, io lo vedo più forte, Kossunu, Kossunu, secondo me è più forte, però, ora, andiamo a classifica, che ci vede a 21 punti, a 5 punti dalla Salernitana, che è risuscitata come Lazzaro, che era ultima e straultima, adesso è terz'ultima, può giocarsi addirittura la salvezza, Salernitana, risuscitata come Lazzaro, ha già 16 punti, noi siamo a 21, 5 punti dalla zona di retrocessione, ok, va bene, e adesso, sconto, alto sconto di diretto per la salvezza contro il Monza, io però, fa tutte ste cose, ma gestione squadra qua sbagliato, allora, io, a sto punto, io ho sbagliato, allora, te, te, ci metto Daud, Mieboa, va in, pre, vandrà in prestito, qua ci metto Camp, anche se, a questo punto, potrei, tirare su, tirare su, tirare su un mediano, un, un giovane, dalla primavera, potrei tirare su come mediano, potrei tranquillamente farlo, ora, per pardo, io sto, sto chiedendo, però, vuoi salvare, si, salvo, ne abbiamo capito che così funziona, ma, ma, intanto due cose, vi vaio, c'è un cdc, che possa, essere, validamente, no, si va a farlo, va bene, ma, a me, niente, ci ho sperato, ma, evidentemente, no, evidentemente, va bene, non ce n'è uno pronto, ok, ora, torniamo a noi, torniamo, torniamo a noi, allora, alla rosa, inessione squadra, a questo punto, mi metto Camp, poi, ci provo a fare, qualche roba, veniamo, pronto, spero, spero che Fred torni presto, prego, perché Fred torni presto, allora, ma non è ok, tutto sommato, ok, va bene, quindi, direi, andiamo, direi, andiamo, giocare questa partita, e, dai, avanti, scusate le grosse, porca mite, ma io, mi dico sinceramente, sto registrando un po' di puntate, una presso all'altra, che lo sia la quarta consecutiva, io, tipo una, non dico una, qualcosa, forse anche più, più una settimana di puntate, sto a registrare tutto assieme, ma, per questioni organizzative, perché mi, oh, andavano a farlo, onestamente, quindi, quindi, signori, siamo qui, partita importantissima con il, con il Monza, partita di un'importanza capitale, cioè, noi abbiamo, il balistico, noi abbiamo sconfitto, noi in casa, stiamo giocando in casa col Monza, e noi sempre in casa, abbiamo sconfitto, 9 a 2 l'Atalanta, 9 a 2, 9 a 2, 9 a 2, 9 a 2, porca mite, va bene, va bene, qua, dobbiamo vincere, cioè, dobbiamo vincere, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, qui, qua, qua, Desmet, 1 a 0, niente, Desmet, abbiamo, abbiamo, abbiamo sbloccato i chakra di Desmet, Desmet ha sbloccato i suoi chakra, definitivamente, l'abbiamo, l'abbiamo messo lì, in quella maniera, e, è diventato un mostro, è diventato una bestia, è diventato un fenomeno, e, ok, cioè, va bene, per noi va tranquillamente bene così, porca miseria, però, bravo Colombo, bravo tenente, bravo tenente, che togni pesa, potete un attimo fare un po' più, orca miseria, vabbè, comunque, signori, tranquilli, oh, possiamo, possiamo far bene, dai, grande, grande, Desmet, orca miseria, va bene, va bene, va bene, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, palo, in mezzo, e, porca miseria, va bene, va bene, benissimo, bene, daud, attenzione, va bene, va bene, va bene, va bene, ok, mezzo, Desmet, no, non è abate, è abate, va bene, era abate, va bene, va bene, va bene lo stesso, vai Desmet, vai Desmet, di qua, benissimo, vira sulla fascia, Vega, Vega, 2-0, vabbè, dai e Vega, grande Vega, 2-0, bene così, bene così, cioè, alla grandissima, grande Vega, grande Vega, grande Vega, ok, ok, di qua, Desmet, bellissima, Vega, ancora per Desmet, no, Desmet, no, Desmet, un po' sbagliare questa, vabbè, fa niente, fa niente, dunque, oh, va bene, di qua, Vega, Vega, ok, grande, mamma mia Desmet, mamma mia Desmet, orca miseria, troppo, troppo, troppo tardi, troppo vicino al portiere, era, va bene, va bene, calma, bravissimo, ok, calma, con la calma, ok, di qua, pare, siete, pare desi di Trivela, così, ok, va bene, va bene, pare desi di Trivela, va bene, ok, va bene, va bene, si sono sbloccati i chakra della squadra, che cacchio, va bene, va bene così, no, per carità, per noi, va bene, certo, anche la difesa, vorrei che succedesse lo stesso sbloccamento di chakra, pure e pure per la difesa, lo vorrei, però, vabbè, oh, pazienza, è una cosa, non si può avere tutto nella vita, fuori come vorrei, non avere, non avere, Monza, che improvvi, Monza, che diventa Super Saiyan improvvisamente, comincia, le giocate, anche loro le giocate da Shaolin Soccer, diciamo, direi, non è bella come cosa, ma vabbè, comunque, comunque, benissimo, Daoud, quasi, va bene, va bene, vabbè, calma, calma, Desmet, è ancora Desmet quando voglio, 4 a 1, e alle Desmet, e alle Desmet, niente, è bastato l'arrivo di Desmet, quei cambi di formazione, e che cosa è successo a questa squadra, non l'ho capito, va bene, 4 a 1, intanto, al Monza, per ora, almeno, siamo alla fine del primo tempo, certo, intanto, orca, no, è però, è però, è però, è però, po', scusa, io ho un sospetto, siccome ci sono stati dei aggiornamenti di recente, portieri, posso vedere portieri, portiere, utente, 100, 100, 100, vabbè, io mi chiedo, mi chiedo, come c'è ogni aggiornamento, i portieri diventano sempre più rinconi, cioè, com'è possibile questa cosa, perché, perché non la capisco, intanto cercano di uccidere Desmet, è partito Rodeo, è partito la caccia all'uomo per Desmet, cercano di ucciderlo, di colpirlo agli organi vitali, ma per l'arbitro è tutto regolare, va bene, comunque, 4 a 2, noi siamo tranquilli, siamo ancora in vantaggio, però occhio, però occhio, occhio, concentrazione, tranquillità, ma allo stesso tempo anche concentrazione, concentrazione, e porca miseria, concentrazione, ma vabbè, comunque, vince primo tempo, 4 a 2, certo, c'è un problema di difese, finito con questo, 4 a 2, e cosa fanno le altre, ah, il Parma perde, è ok, noi riprendiamo, Parma perde, e va bene, Parma perde, e, dobbiamo sapere più cosa fanno le altre, troppo, però, Monza, ci stiamo giocando contro, ok, e, non sappiamo, Salernitana, la, 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 la Zarica, Salernitana, la Zarica perché è resuscitata come Lazzaro, di mezzo, niente, vabbè, Salernitana sembra resuscitata come Lazzaro, due vittorie consecutive, ed è di nuovo lì, ora, io voglio vedere quello che riesco a fare, se vincere questa partita penso possa essere abbastanza importante, in ogni caso, perché dobbiamo fare punti, dobbiamo fare punti, dobbiamo cercare di ottenere la salvezza, salvezza, il prima possibile, vorrei riuscire a chiudere il discorso salvezza il prima possibile, per poterci dedicare poi alla stagione successiva, e poter pensare di costruire una squadra che possa lottare per un piazzamento in una Coppa Europea, per fare questo dobbiamo un attimo, ecco, ora, Untuna, 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 ok, Traore, Alan dirà, Mario lui, e ok, ok, Desmet di qua, con la Desmet, a giro Desmet, attenzione, va bene, va bene, va bene, va bene, ok, di qua, ok, Daoud, ha battuto il portiere dopo questa pallonata, ma va bene, allora, calma, calma, no, bravo, 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 no, ok, va bene, con la calma, con la calma, tutto si può fare con la calma, venga, 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 che Desmet, 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 niente, va bene, andiamo calmi, cambi, 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 allora, Lunde per Chiellini, ho un po' paura a fare sto calma, no, 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 Chiellini resta dove sei, per carità del cielo resta dove sei, allora, io direi, Pardo per Untuna, Richter per Vega, Kristea per Daoud con Kristea che diventa C.O.C., Campbell per Allan con Campbell che diventa C.C. e poi, e poi come morire, nel senso, ne abbiamo metti quattro, potrei chiaramente metterlo un quinto, vediamo, il quinto potrebbe essere Lunde, qualora facessimo terzo gol, allora il quinto potrebbe essere Lunde, ma, e che cosa, ho visto Kristea teletrasportarsi i superpoteri di Kristea, i superpoteri di Kristea, l'ho visto teletrasportarsi di colpo da un punto all'altro, Kristea è un Super Saiyan, l'abbiamo appena scoperto, ormai, ormai ci sono, ormai ci sono, ormai ci sono sbloccati i chakra della squadra, i chakra di Smet e del resto della squadra, si sono sbloccati ormai, quindi, ormai ci sono diventati tutta una squadra fortissima, attenzione a Boris, sulla fascia, per Richter, 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 attenzione, niente, va bene, va bene, va bene, va bene, ok, bene campo, Richter ancora, Richter, e Ale, e Ale, Richter, l'ho detto, la squadra ha sbloccato i superpoteri, ora, visto questo 5 a 2 l'ottantesimo, io direi che Chiellini possiamo anche preservarcelo e fare entrare Lunde, fagli fare un po' di esperienza in campo, va bene, va bene, va bene, Richter, segna anche lui, c'è gloria anche per lui in questa partita, 5 a 2, gol di Richter, e, oh, bene, 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 io questa vittoria non mi aspettavo mai una vita, questa vittoria, non è stata mai, c'è no, questa no, c'è questa non è quella, quella mi aspettavo è 9 a 2 all'Atalanta, onestamente, ma mi sfido chiunque a prevedere una cosa del genere, vabbè, ma FIFA, ma FIFA è folle, e lo sappiamo, FIFA è folle, e lo sappiamo, ora, Richter ancora, per camp, vuole segnare anche lui, non ci riesce, va bene, no, 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 eh, 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 ok, a posto, va bene, tutto a posto, tutto come previsto, pardo, ma questo è brutto, ho proprio pardo, ho proprio pardo, bella palla, De Smet, De Smet, torca miseria De Smet, ok, camp, niente, camp ci prova, intanto giallo per Carboni, Andrea Carboni, ha scritto una canzone troppo brutta, evidentemente, per questo è stato ammonito, e vabbè, capita, primo palo, in mezzo, che è brutto sto calcio, vabbè, campo, ok, pardo, vabbè, vabbè, finisce qui, 5-2 al Monza, altra vittoria importantissima contro una diretta concorrente, questa volta contro una diretta concorrente del campionato, per la salvezza, diciamo, io, eh, decisamente bene così, direi, decisamente bene così, ora, voglio vedere che han fatto gli altri, voglio vedere cosa han fatto gli altri, allora, De Smet, protagonista, De Smet è stato straordinario, grande De Smet, ci aspettavamo di più, eh, non c'è stata partita, per la verità, allora, è merito dei ragazzi, assolutamente, finalmente torna un sorriso nella squadra, nel morale della squadra, torna un sorriso, bene così, ora, vediamo un po' che succede, mi è buona in prestito, eh, Alejandro Catena, più 350.000 euro per Manuel Lazzari, io voglio, questo è un giocatore che scambio, ci sono Alejandro Catena, Alejandro Catena, eh, 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 sì, certo, eh, ora, 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 io direi, io voglio avanzare intanto perché voglio... fermi, ok, Yeboava in prestito, sembra scortato tipo, Alcelta Vigo, due anni, Torna più forte di prima Caro Kelvin Torna forte come prima E più di prima Adesso abbiamo la Coppa Italia con l'Inter Avremo una Coppa Italia con l'Inter Un momento in cui dovrei fare anche turnover Bene Bene Allora Allora Io direi Io direi Direi Voglio vedere un attimo Utilizzazione e trasferimenti Hub Mercato No più che Hub Mercato Giocatore Allora Cosa mi si è Ah questi qua Giroud Günther Schmidt Ormai molti di questi Sono giocatori che Restamente ci faccio poco Diciamo che Trivus Si si è vero Non è che ci faccio Granché Allora Semmai Io Grazie a un osservatore Ok Fammi Ok Ok Narca Allora E fermi un attimo Che qua c'è Qua abbiamo Qua abbiamo le cose belle Cosunu 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 Sapremo la verità Su Cosunu E Sar Penso lo sapremo Nella prossima puntata Detto questo Un saluto Di quanti voi E La prossima Grazie a tutti.